Stamani siamo qui a Casa dei Principe, esattamente a Via Giocosa, in quella che sarà la nuova sede della NCO, Consorzio NCO, con Peppe Pagano e tutte le persone che hanno creato questa rete, questa sinergia, per dare un contrasto alla camorra e per dare il giusto utilizzo ai beni confiscati. Io stamattina sono stata gentilmente accolta da Michele Docimo, giornalista e direttore del web giornale Notizie Migranti, che mi ha invitato, ci sono sentite telefonicamente, un messaggino su Facebook, diceva incontriamoci, cerchiamo di capire un attimo che cosa sta succedendo per quello che è la nostra capacità di comprendere e soprattutto la tua, vivendo il territorio di Castelvolturno, tutto quello che purtroppo ancora una volta dobbiamo sentire. Sentiamo dai web, sentiamo dai telegiornali nazionali e regionali e purtroppo ancora una volta c'è una situazione che veramente crea, io dico un dolore, un dolore nel dolore perché si cerca di riscattare queste terre, si fa un'azione veramente pulita, ci si sporca le mani in maniera pulita, però purtroppo succede sempre qualcosa che getta ancora una volta quell'ombra su qualcosa che è sempre lì pronta a rinascere. Michele, che cosa sta succedendo, almeno per quello che è per te capibile, vivendo un territorio quale quello di Castelvolturno? Beh, succede quello che da tempo ci si aspettava, una bolla che mano mano cresce e poi a un certo punto è destinata ad esplodere. Adesso pare che la calma sia ritornata, ma se non si trova una cura a questa infezione, è un po' come dire, passato un po' di tempo, passato l'effetto del medicinale, che poi devono dirci questo medicinale qual è, passato questo effetto l'infezione si ripresenta di nuovo. Successo quello che è successo? In molti, il giorno dopo, oltre a fare la cronaca di quello che è accaduto, si domandano di chi è la colpa. La prima cosa che ci viene in mente di dire è di chi è la colpa. E qui si trovano le opposte fazioni. Per gli italiani sono i migranti, per i migranti forse sono gli italiani, perché nessuno ammetterà mai le proprie colpe. Diciamo che le colpe, come le sconfitte, sono orfane di padre, nel senso che non le possiamo trovare solo da un solo lato. Le colpe sono un po' condivise, perché la prima cosa che viene da chiedersi è perché si è arrivati a tutto ciò. Perché si arriva, non che sia un male, per carità, ma perché si arriva in un comune italiano in cui il 16, quasi 18%, perché poi c'è la questione di tanti invisibili, di tanti non regolari, perché c'è quasi un 20%, un quinto della popolazione di un comune italiano che è interamente composto da migranti stranieri. E quindi là viene da chiederci perché proprio Castelvolturno. E quindi allora bisogna analizzare. Non parto nel fare il buonista a tutti i costi, che non è colpa degli immigrati, è colpa solo degli italiani. Ognuno ha la propria parte di colpa. Ad iniziare dai vertici istituzionali. Se un ministro degli interni ha l'indomani di un fatto di cronaco così eclatante, l'unica risposta che si sente di dare è dire non possiamo dare accoglienza a tutti, quindi allora c'è anche lì della colpa. E della colpa c'è anche nel fatto di non essersi interrogati in tutti questi anni perché proprio Castelvolturno. Nella giusta maniera. Esatto, nella giusta maniera. Perché proprio Castelvolturno, perché proprio lì e non in un altro comune italiano. Allora non ci siamo chiesti forse perché proprio Castelvolturno ci sono interi quartieri completamente abusivi con palazzine, con villette che sulla carta non esistono e che quindi dagli italiani vengono affittate in nero ovviamente a migranti extracomunitari che hanno il problema. Vivono anche in una condizione allucinante, che poi vivono in condizione ai limiti dell'umana tolleranza oserei dire. Quindi c'è anche un approfittare di noi che pur di guadagnare costringiamo dalle persone a vivere in una condizione come giustamente diceva Michele, che tutte possono essere definite tranne che umane. Io ho saputo di persone che in billettine, insomma, ce ne sono anche 30, c'è una stanza, dormono ammassati. Sì, dormono ammassati. Sfruttati poi anche nel lavoro. E ognuno di loro non dividono neanche i costi di un affitto di una stanza del genere. Anzi, ognuno di loro paga quanto una famiglia normale italiana pagherebbe per un appartamento di 120 metri quadri. Quindi moltiplica questi 30 per un 400-500 euro. C'è un bel guadagno mensile. Ognuno di loro c'è un bel guadagno mensile. Non vengono chiesti ovviamente documenti alle persone che prendono in affitto queste case perché non ce l'hanno, sono irregolari. Vabbè, dagli scatti è stato trovato i documenti, il contratto non viene registrato. Non viene registrato, c'è tutto un guadagno da un lato e opportunità dall'altro. Perché io, se sono irregolare, se sono fantasma, non posso abitare da nessuna parte. Nessuno mai mi farebbe un contratto di fitto se io non ho i documenti in regola. Per arrivare proprio a quello che è successo i giorni scorsi. C'è qualcosa che ci ha riportato un po' indietro. C'è qualcosa di un attimo più forte. Sì, ci ha riportato indietro. Ma è come dicevo prima, è una bolla che prima o poi doveva scoppiare. Perché ci sono problemi di... Io dico che ci sono problemi di integrazione. Poi con le vostre associazioni, tu con il tuo impegno, perché tu veramente, non perché lo voglio dire, Michele è un ragazzo, un giovane, un uomo che veramente il suo tempo lo impegna e lo spende sul territorio, lo spende anche come giornalista, non solo come persona che è a capo di una serie di associazioni, che collabora. Quindi voglio dire, lui lo fa tutti i giorni. Allora, secondo te diamo un suggerimento oppure cerchiamo di capire veramente una soluzione reale. Perché altrimenti, come tu dici, ce l'aspettavamo da tempo perché era troppo tutto silente. Allora, oggi è successo questo, domani potrebbe succedere ancora peggio. Allora, come fare per ovviare o perlomeno per cercare di arginare una situazione che è gravosissima? Perché quello che abbiamo messo in televisione, mi permetto di dire che è una parte piccolissima di quello che veramente c'è. Ma questo accadrà sempre, non possiamo risolvere questa situazione dall'oggi al domani. Il cambiamento che deve essere, deve essere un cambiamento culturale. Tu dicevi che cosa fanno le associazioni? Le associazioni fanno quello che non hanno fatto le istituzioni sia a livello centrale che a livello locale. Perché nel momento in cui le forze politiche, sia nazionali che locali, fanno del parlare alla pancia delle persone, dell'italiano che deve essere aiutato anziché lo straniero, fanno la loro campagna elettorale, noi ci troveremo sempre in questa piccola miccia che accende e scoppia. Il cambiamento che deve esserci, deve esserci un cambiamento culturale. Deve esserci innanzitutto integrazione, poi è un'integrazione nei modi e nei fatti, una contaminazione culturale in queste zone a forte, positiva ovviamente, a livello proprio di legalità appunto. Io nei giorni scorsi parlando con un altro giornalista che mi fece una battuta, cioè gli africani non si integrano al sopraffare malavitoso di una parte dei locali. Ed è questo, quindi come si sentono attaccati reagiscono. Non che voglia difendere perché la reazione è del tutto sproporzionata. Però non so darti una soluzione dall'oggi al domani, la soluzione deve essere un lavoro di costruzione, deve essere un lavoro di bonifica del territorio, nel senso proprio anche di chi lo vive. Da italiano. Esattamente, una bonifica soprattutto culturale. L'immigrazione deve essere vista come una risorsa anziché come un problema. Bisogna capire che chi viene è in questi posti. C'è una paesia di Warsanshire che dice che nessuno lascia la propria casa se la sua casa non è la bocca, a meno che la sua casa non è la bocca di uno squalo. Quindi bisogna capire chi arriva dalle nostre parti, sui nostri lidi, che cosa ha passato. E come a lui, lui non si sarebbe mai sognato di vivere in un tugurio con altre 29 persone. Ma lo fa perché forse al suo paese la vita era ancora peggio, se c'era una speranza di vita. Quindi la questione è proprio questa. Uno, capire il prossimo. Due, contaminazione. La parola d'ordine deve essere proprio questa. Contaminarsi culturalmente le due culture, quella italiana, quella domiziana, quella locale dell'Agroversano, con tutte quante le altre culture. Perché tra etnie e nazioni si contano ben 77 differenti nazionalità. su Castelvolturno, quindi 77 culture diverse, 77 etnie, come le vogliamo chiamare. Quindi solo mettendo assieme tutto questo, valorizzando, Dimitri Russo, il sindaco di Castelvolturno, nei giorni scorsi alla stampa ha detto che lui ad Alfano avrebbe chiesto un permesso di soggiorno umanitario, una copertura umanitaria, per chi nelle nostre terre lavora e viene sfruttato. E questo è anche un altro discorso che si allaccia a quello che dicevamo prima delle colpe. Io sono contenta che tu hai nominato Dimitri, perché Dimitri io lo vedo come il riscatto per Castelvolturno, come Renato Natale per Casale di Principe. Un giovane che viene eletto sindaco e che veramente abbraccia il territorio è qualcosa di importante per chi lo vive. Sì, sicuramente. E questa è una delle cose che ti dicevo, è uno di quei meccanismi da attivare per cercare di risolvere in futuro questo problema. È proprio quello di vivere il territorio, di non guardare né dall'alto né dal basso il problema dell'immigrazione, ma dalla giusta angolazione. Quindi dicevo, lui parlava di questo permesso umanitario, copertura umanitaria, insomma una di queste forme legali, per chi viene sfruttato. E questo, dicevo, si riallaccia al discorso che facevo prima sulle colpe. Perché ci sono 12, 15, 20.000 lavoratori, cioè 20.000 migranti in queste zone, molti di loro invisibili? Perché appunto trovano anche qui un modo per sbarcare il lunario, per vivere, sfruttati in campagna o nell'edilizia, anche da invisibili, perché magari si lavora a nero nelle campagne e nell'edilizia e quindi possono abitare, possono sbarcare il lunario, per loro è una buona situazione. È una situazione che poi sta bene anche a quella parte di italiani che sfrutta la loro posizione. Quindi finché da un lato c'è l'opportunità, cioè da tutte e due le parti c'è l'opportunità, però gli interessi sono contrapposti, poi ecco si arriva a questo mix letale che appunto ogni tanto sfocia in queste violenze. Michele, all'indomani di quello che succede negli accadimenti, qual è stata la reazione di chi vive il territorio e di chi magari ha proprio il timore di essere scoperto? Perché molti di questi, come giustamente strepavitù, e cosa risaputa, vivono illegalmente in Italia. Illegalmente no, vivono irregolarmente, non sono regolari con le norme di entrata nel nostro paese, ma non sono, dire che sono illegali, nessuno è illegale. No, ecco, questo è il paradosso e l'assurdo delle leggi italiane. È un reato nascere fuori dall'Italia e stare in Italia. Questo è uno dei grandi paradossi, è una di quelle cose da, ecco, che forse comincia anche da qui. Comincia anche dal fatto di ripristinare un ministero per l'integrazione, comincia dal fatto di abolire il reato di clandestinità, dal fatto, come facciamo noi di Notizie Migranti, di non scrivere più la parola clandestino, extracomunitario. Queste parole che già da sé segnalano. Allora, la cosa da abbattere, non dico neanche che dobbiamo abbattere le villette abusive del litorale, così non vengono occupate, così risolviamo una parte del problema. Se proprio dobbiamo abbattere, abbattiamo il pregiudizio. Assolutamente. Allora, tu oggi ci farai la cortesia, noi tra un poco, insomma, lasceremo la futura nuova sede della NCO, del Consorzio NCO, e Michele ci farà la cortesia, ci porterà a fare un giro sul territorio, faremo un giro a Castelvolturno, vedremo se incontreremo qualcuno, magari se ci sarà la possibilità, gli daremo voce, perché come giustamente dici tu, non chiamiamoli clandestini, non chiamiamoli extracomunitari, perché è già un modo per etichettarli. sono persone, sono migranti da sempre, c'è stata l'immigrazione, quindi cerchiamo di cogliere la parte buona, anche che come giustamente osserva il collega, è facile dire, sono loro i cattivi e siamo noi buoni. La verità è sempre nel mezzo, nel mezzo c'è che il torto e la ragione è sempre al 50%. Allora ringraziamo al momento qui dalla NCO Michele Doci, ma ci rivediamo tra un poco e poi ci saluteremo da quello che è un territorio che dovrebbe essere a noi caro, che dovremmo ricominciare ad amare, amandolo forse anche a farlo funzionare meglio. Grazie.